Salve a tutti ragazzi, oggi facciamo un video un po' particolare e spieghiamo finalmente queste prove che ho fatto. Ne ho fatte parecchie, sono varie tipologie di prove e vediamo un attimino tutta la questione. Allora, le prove si dividono in due macro-categorie fondamentali. Una prova numerica dove vengono elencate i vari test della cuffia con dei punteggi che vanno da 0 a 30. Che cosa sono questi punteggi? Da dove derivano? Perché tutti mi dicono che è una tua opinione, ma è un'opinione di tante persone. No, non è un'opinione, niente. È una interpolazione, una conversione dei dati numerici delle misure, delle cuffie effettuate con la testa artificiale Neumann KU100. Quindi questi dati di queste misure vengono convertiti in un risultato finale numerico che va da 0 a 30 con i numeri decimali. Quindi abbiamo una risoluzione sul punteggio molto elevata, perché si parte da 0,00 fino ad arrivare a 30.0. Quindi noi abbiamo praticamente i numeri interi più una virgola. Quindi abbiamo una risoluzione del punteggio molto elevata. Allora, il primo test è completamente numerico. Adesso vediamo un attimino la questione. Eccolo qua. Come vedete, cuffia A e cuffia B. Eccola qua. Abbiamo questi dati. Costruzione materiale, stabilità, comfort, traspirabilità, linearità sui bassi, linearità sui medi, linearità sugli alti, regolarità della risposta in frequenza da 50 Hz a 10 kHz, distorsione armonica, coerenza, immagine e parcoscenico. Vediamo cos'è. Allora, costruzione materiale, lo dice la parola stessa. Come sono costruite, quindi la bontà di costruzione e la bontà dei materiali. Qui c'è poco da dire. Poi ci sono delle puntate precedenti che spiego questa questione. La stabilità. Che cos'è la stabilità? La stabilità è la caratteristica della cuffia che rimane, diciamo, attaccata alla testa. Quindi quanto è stabile questa cuffia attaccata alla testa. Quindi se io, per esempio, faccio dei movimenti bruschi, questa rimane sempre stabilmente attaccata alla testa. Poi il comfort, lo dice la parola stessa. È il comfort, la traspirabilità è quanto scalda all'interno della cuffia, quindi la differenza di temperatura tra esterna e la temperatura interna alla cuffia. Poi, linearità sui bassi, dai 20 ai 300 Hz. Praticamente quanto è lineare la risposta in frequenza sui bassi. Poi, la stessa cosa sui medi, dai 300 Hz ai 3 kHz. Gli alti, dai 3 kHz ai 20 kHz. Poi è la regolarità della risposta in frequenza, che non è l'andamento, quindi una linearità di andamento, ma quanti picchi piccolini, quanti buchi piccolini si distribuiscono tra i 50 Hz e i 10 kHz, i 10.000 Hz. Questo è importantissimo. Dà, diciamo, la regolarità, lo dice la parola stessa, la regolarità. Poi, la distorsione armonica, che cos'è? È la quantità di frequenze sottili e indesiderate, dette armoniche, che sono prodotte insieme alle frequenze fondamentali di una cuffia. Esempio, se io do un tono di 1 kHz all'interno, si formeranno delle armoniche, tipo una seconda armonica, una terza armonica, quindi, so, 1.000 Hz, la seconda armonica è 2.000, la terza armonica è 3.000. Quindi, che cosa succede? Che la quantità di queste armoniche è più e bassa e meno distorsione armonica c'è, quindi è più fedele. Infatti, è molto importante, se si desidera una riproduzione del suono, pulita e pura. E viene effettuata a due livelli di intensità, a 90 dB e a 100 dB di intensità sonora. Quindi, se io, per esempio, ho una sinusoide, se questa sinusoide non è perfettamente sinusoidale, ma leggermente, diciamo, stortignacola, un po' squadrata, vuol dire che abbiamo una distorsione armonica. Ovviamente, più il punteggio è alto sulla distorsione armonica, in questo caso, vedete, 25.8, migliore è la qualità dell'audio, quindi minore distorsione armonica c'è. Quindi, più i punteggi sono alti, e più è alta la qualità di ogni caratteristica. Poi, la coerenza. La coerenza, che cos'è? L'ho spiegato in una puntata precedente, ma vado in sintesi, è qui. La coerenza, praticamente, è quando io tolgo e rimetto le cuffie, tolgo e rimetto, il suono rimane lo stesso, quindi è coerente nel posizionamento della cuffia. Ok. Poi l'immagine. L'immagine, che cos'è? Determina la posizione e la dimensione degli oggetti, cioè degli strumenti, dei suoni, all'interno di un campo sonoro, che è il campo sonoro, che cos'è? Il palcoscenico, anche detto soundstage. Quindi, l'immagine è questa cosa qui, determina proprio la posizione e la dimensione degli oggetti, degli strumenti e dei suoni. E il palcoscenico, invece, detto anche soundstage, in una cuffia determina lo spazio e l'ambiente del suono, cioè determina la posizione percepita e la dimensione del campo sonoro stesso. Ok? Una volta capito questi concetti, uno fa i confronti tra cuffia A e cuffia B, per esempio, la costruzione e i materiali sono identiche, 22 e 2, la stabilità 16 e 2, 16 e 2 sono gli stessi, il comfort è lo stesso. Per esempio, linearità sui bassi, questa la cuffia A è 27, la cuffia B è 22 e mezzo, quindi sulla linearità dei bassi la cuffia B è migliore della cuffia A. Qui c'è poco da dire. Quindi questo è il discorso. Adesso ritorniamo a noi. Questo è il primo test, è un test numerico. Ok, nudo e crudo. Ripeto, questi numeri non sono interpretati, ma sono ottenuti mediante un algoritmo che interpola i dati numerici della cuffia della test artificiale Neumann KU100, quindi ammettiamo il caso, prendiamo il discorso della regolarità di risposta in frequenza. Lui analizza tutti i punti di questa risposta in frequenza e tira giù un risultato finale, in questo caso quello che abbiamo visto prima, 22 e 8. La seconda prova che è innovativa è quella di far ascoltare la cuffia registrata nella testa artificiale. Quindi io posiziono questa cuffia su questa testa artificiale e metto all'inizio un rumore rosa e il secondo poi delle canzoni, i campioni. Quindi che cosa succede? Praticamente questa registrazione viene fatta sentire a voi e quindi sentite più o meno come suona la cuffia A o la cuffia B. Mo' andiamo un pochino più in dettaglio. Adesso entriamo in dettaglio. Io adesso faccio qui, abbassa un attimo. Ok. Ultimate Sound Test Comparaison Hi-Fi Man Ananda contro Hi-Fi Man Sundara. Adesso inizierà con il rumore, ecco qua, questo rumore qui, che sentite, Original Pink Noise. Questo è il rumore rosa originale. Questo è il rumore rosa della cuffia Ananda. Lo vedete? Dopodiché, si passa all'Hi-Fi Man Sundara. Che cosa notate di differenza? Voi dovete prendere, come esempio, ecco, questo qua è il riferimento, l'Original Pink Noise. E dovete fare in modo di capire quale delle due cuffie si avvicina all'Original Pink Noise. Sentite, questa è la Sundara. Ok? Original. Voi vi concentrate sull'Original. Poi a un certo punto passiamo sull'Ananda. Eccola. Sentite che differenza c'è? Ci sono dei buchetti, delle cose. Ok? Sentite la Sundara che è leggermente più vicina al suono originale. Sentite bene. Original Sound. Ok? Ananda. Ok? Sundara. Quindi la Sundara è più vicina è più vicina ritorniamo a noi più vicina al suono originale. Allora, perché questo? Di solito le prove le fanno facendo sentire cuffia A e cuffia B. Che cosa succede quando sentite la cuffia A e la cuffia B? Voi preferite quella che vi piace di più. ma se non mettete un benedetto riferimento di rumore che è il riferimento assoluto che è rumore rosa in questo caso che poi non è un rumore rosa originale è una cosa un po' più complicata poi vi spiegherò se no compliciamo troppo la situazione. Comunque questo rumore rosa originale è un riferimento quindi l'orecchio si abitua al rumore rosa originale quando poi si passa alla cuffia A sentite la differenza e poi la cuffia B e poi si ritorna al rumore originale. Poi avete fatto caso che ogni 5 secondi 6 secondi circa c'è il passaggio perché l'orecchio è un gran bastardo si abitua quindi se io per esempio vi faccio sentire un minuto di cuffia A e poi passi a B tu dici ma la cuffia A è meglio di B in realtà l'orecchio si abitua e quindi ogni 5 secondi 6 secondi cambio scenario quindi sto originale pink noise originale pink noise cuffia A pink noise cuffia B in quella maniera l'orecchio non si abitua e sente le differenze io ho fatto i test con tantissime persone e ci hanno azzeccate tutti a sapere qual è più quella che si avvicina più al suono originale che vuol dire avvicinarsi più al suono originale all'original pink noise visto che l'original pink noise è un sistema iperlineare vuol dire che si avvicina più alla linearità quindi tra la cuffia A e la cuffia B si sa qual è quella più lineare tra loro due rispetto a un riferimento assoluto che è il pink noise originale io spero che sia stato chiaro su questa questione perché tanti mi hanno detto ma io non ho capito che vuol dire che è sto rumore a che serve perché mi ho messo il rumore di solito tanta gente mette le musiche la musica se non avete un orecchio veramente esperto non potete capire qual è il lineare tra l'una e l'altra e la musica originale quindi il rumore essendo un insieme di tutte le frequenze che poi il rumore rosa è un insieme di tutte le frequenze non allo stesso livello ma è a un livello decadente di 3db per ottava comunque è una cosa un po' complicata tutto questo voglio essere un po' sintetico che cosa succede che con il rumore avendoci tutte le frequenze a disposizione l'orecchio riesce a capire subito le dominanti e i buchi di una cuffia quindi questo test diciamo innovativo vi dà la certezza di ascolto della risposta in frequenza ovvero la linearità di una cuffia rispetto all'altra ok spero di essere stato chiaro e per il momento mi fermo qua wow wow ciao ciao